Ah ma siete qui? Eh non vi trovavo. Vi volevo comunicare che domani comincerà l'evento ISOP più atteso della stagione, il main event dei campionati italiani di poker. E questa sera alle 21.30 ci sarà la possibilità di qualificarsi con un satellite live. Volete sapere dove? Mando naturalmente al Casino Perla di Nova Gorizza. Tre sono i ticket garantiti che mette in palio il frirollo di questa sera per arrivare a questo. Grazie a tutti.